Non condivido perché sono di parere diverso, credo che siano eccessive, abbiamo la possibilità di fare ricorso e quindi portare avanti la nostra opinione, abbiamo già fatto ricorso e ci auguriamo che ci sia la possibilità di avere qualche sconto. Poi ho sempre detto che sono nel rispetto delle regole, che sono nel rispetto delle istituzioni, se abbiamo sbagliato e le regole dicono che abbiamo sbagliato e dobbiamo prendere queste squalifiche, le prendiamo, però poi dico, come ho detto in conferenza, che siano uguali per tutti, perché se poi dopo a ogni frase contro l'arbitro o un dissenso con l'arbitro si prendono tre giornate di squalifica, se la regola è uguale per tutti, va benissimo. Noi staremo attenti, noi siamo per il rispetto, staremo attenti che vengano rispettate sempre e comunque. Sì, sì, ho parlato, io ero in panchina, quello che mi hanno detto non è lontano da quello che ho visto, questo non lo so, né nella tempistica e né se bene accolto o ci sia una scontistica, mi auguro di sì, mi auguro che siano tempi anche brevi, però io sono, ripeto perché voglio sottolineare, io sono nel rispetto, istituzione e regole, è importante però il mio diritto e il mio dovere che poi dopo venga sempre attuato questo peso e questa misura. No, io non l'avevo sentito, quindi è la terza, quindi se l'hanno sentita, purtroppo fa parte delle regole, sicuramente pagheremo. No, ma era una partita molto tirata, molto tesa, molto importante, ripeto io non vedo questa, soprattutto su Sirri, ma anche su Mosca, ma vedo questo eccessivo, tra virgolette, nervosismo. Mosca da capitano ha insistito, forse anche in modo forte, per una sostituzione di una palla a gioco fermo, dove fondamentalmente era una situazione dove dovevamo equilibrarci un attimino, una punizione al limite, quindi voleva dare una mano al gruppo, all'allenatore, da capitano ha chiesto fortemente all'abito la sostituzione, però essere espulso, prendere due munizioni, cioè una munizione e poi un'espulsione per un cambio è una cosa, la accettiamo ma è impegnativa.